I forconi scendono nuovamente in piazza, un messaggio chiaro, questa volta rivolto ai giudici, fare in modo che il Tribunale di Ragusa non diventi un'agenzia immobiliare? E' quello che abbiamo scritto ieri, perché siamo a questo, siamo ad un'agenzia immobiliare con saldi importanti, praticamente vendiamo un appartamento con il 90% di sconto, non è possibile, non credo che sia... Perché la legge, l'articolo 164 parla di bloccare le aste nel momento in cui non ci sia più la possibilità di soddisfare il creditore, benissimo, che le applicano pure a Ragusa, venga applicata pure a Ragusa, perché in altri Tribunali viene applicata. Ora, siccome ci piacerebbe che quest'andazzo, visto il contesto, perché purtroppo oggi qui in piazza verranno più tardi degli agricoltori, verranno degli allevatori della Ragusa Latte, tutta gente che probabilmente avrà dei problemi, perché ovviamente per quello che capita, i danni dell'atmosfera, il fallimento della Ragusa Latte, la truffa della Ragusa Latte, i fatti che accadono giornalmente, il commercio perché è fermo, perché l'economia è abbastanza bloccata, tutto questo significa potenzialmente ancora una volta aste giudiziarie e massacro per persone che probabilmente hanno attività storiche, che hanno avuto qualche incidente di percorso, benissimo, a questo punto io dico ai giudici, visto che la politica purtroppo è assente, perché non mi pare che si siano visti soggetti politici in questa vicenda delle aste giudiziarie, non ne abbiamo visti, non ne abbiamo sentiti parlare, abbiamo avuto delle promesse ma non sono state mai rispettate, benissimo, a questo punto il secondo livello è la magistratura, ci rivolgiamo a loro per dire, scusate, cosa volete fare di questa economia ragusana? Vogliamo metterla all'asta al 10% tutta? Vogliamo costruire così una provincia che si rilanci per quella che era Ragusa, se vi ricordate? Ragusa è una provincia che viveva sull'agricoltura, sulla zona trasformata, se questa zona trasformata ha avuto dei problemi, si ripercuotono inevitabilmente su tanti settori, commercio, artigianato, su tutto quello che c'è, cosa si fa a questo punto? Se la politica è sorda, perché purtroppo i deputati regionali avevano votato tutti, tutti, avevano votato un provvedimento di legge, che fine ha fatto per quanto riguarda una modifica alle aste giudiziarie, una modifica alla legge? Che fine ha fatto questa modifica? E in Senato perché non ci si muove? Perché non si muove nessuno? Perché non lo mette sul tavolo nessuno? Siamo in campagna elettorale, il Presidente Crocetta che cosa vuole fare di questa provincia, di queste zone, di questa agricoltura siciliana? Tutte queste sono domande che facciamo stamattina ai giudici, che purtroppo non possono rispondere, lo capiamo perché probabilmente qualcuno ci dirà, lo sappiamo, i debiti si pagano numero uno, regola numero uno. La seconda cosa è che probabilmente loro non fanno la legge, benissimo, ma hanno avuto una modifica alla quale appigliarsi, fermarsi dopo le tre aste e fermarsi dopo che il prezzo scende sotto il 50% della valutazione del CTU. Benissimo, la applichino perché altrimenti ci troveremo ad una svendita quasi da agenzie immobiliare in una provincia che ripeto era ricca e diventa la più povera, la più massacrata d'Italia. Non è possibile, non l'accettiamo e questo vogliamo dire stamattina a questi signori, tutto qua. Volevamo un incontro con il Presidente Barracca, il neo Presidente Barracca, che è un facente di funzione per la verità, dobbiamo dirlo, per dire proprio questo che stiamo dicendo. Ci è stato negato perché probabilmente il facente di funzione ci dicono che non può fare incontri non istituzionali. Benissimo, noi non siamo le istituzioni, noi siamo un movimento che si muove per cercare di difendere sul territorio queste signori, queste persone, queste aziende che hanno queste difficoltà. vogliamo che loro capiscano di che cosa stiamo parlando, vogliamo che qualcuno ascolti quello che vogliamo dire. L'abbiamo già scritto in un esposto querela, in questa provincia ci sono professionisti delegati che fanno, professionisti delegati per la vendita e nello stesso tempo fanno le persone che acquistano all'asta. Non è possibile che ci siano queste incompatibilità, non è possibile che si faccia questo lavoro facendo l'uno e l'altro mestiere. E allora sono cose scritte in un esposto, volevamo sapere da questo Presidente come è finita questa storia, a che punto è, che risposte abbiamo? Nessuna. Allora a chi rivolgerci, a chi dobbiamo rivolgerci? Questa è la domanda che vogliamo porre da qui, da qua giù al palazzo che probabilmente sta facendo le aste. Il giorno 23 in questa provincia, in questo palazzo ci saranno 36 aste in un solo giorno, nel mese di febbraio ce ne saranno 164. Domando, è o non è un campanello d'allarme? Chi vuole capire capisca, ma a quanto pare non gliene frega niente a nessuno, ecco perché noi siamo qui. E siccome incontriamo giornalmente decine di persone, qui sono migliaia gli interessati, che cosa dobbiamo fare? Ieri a Vittoria è arrivato Pomodoro, che viene dall'Albania. Questo è il meccanismo che fa perdere l'economia di Ragusa, la concorrenza sleale. Altro che il protezionismo, qui dobbiamo chiudere le frontiere per dire o ci salviamo così o moriamo tutti. Però il problema è che non ci ascolta nessuno, ecco perché siamo qui e rimarremo qui, probabilmente ritorneremo qui ancora mesi e mesi, ma lo faremo perché il discorso è che non si può fare, non si può non bloccare questo meccanismo, questa macelleria sociale che c'è, perché in effetti è in atto e non si può lasciarla così senza parlarne. Dobbiamo metterla sul tavolo dei giudici, della politica e di chi vuole ascoltare. I sindaci che fino hanno fatto pure loro, sanno di queste vicende nelle loro città, se ne è incaricato qualcuno? Non abbiamo visto nessuno, continueremo. Grazie a tutti.